L'associazione Camminare Insieme e l'associazione Orizzonte Ollus organizzano il primo corso no profit di pizzaiolo per disabili. Il corso siterà presso il Lido Venere di Agropoli nei giorni 2, 8, 11 e 15 luglio, dalle ore 17 alle ore 19. Un esperto pizzaiolo farà da guida ai ragazzi in un percorso che avrà la durata di 9 ore. Il 2 luglio è previsto l'incontro tra le associazioni e accoglienza dei disabili con i loro accompagnatori. Il giorno 8 luglio invece la giornata sarà dedicata alla conoscenza degli ingredienti della pizza, le loro caratteristiche e proprietà nutritive. Interverrà per l'occasione la nutrizionista dottoressa Stefania Buono. L'11 luglio sarà la volta delle mani in pasta con l'incontro di preparazione dell'impasto per la pizza e la preparazione del forno. Il giorno 15 luglio invece ci sarà la giornata conclusiva con la stesura della pizza, il condimento, cottura e consumazione delle pizze insieme agli accompagnatori. Quest'ultima serata è aperta anche ai cittadini che vorranno partecipare e gustare una pizza dal sapore veramente diverso.